Bella a tutti buoni, sono Marci e benvenuti in questo nuovo video di Marder in compagnia dei Carenciers Quindi ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video di Marder, ciao Ciao Marci, buona giornata, ciao Kerci e ciao Madably A 5.000 mi piace per questo bel video di Marder Perché sennò Eren si ammazza, se non lo mettete Eren si ammazza su Minecraft in un SG No ma io vivo tranquillamente lo stesso No tu ti ammazzi, se non arriviamo a 5.000 like entro stasera Ok? Ok Sì, va bene Va bene, ci vediamo dentro al video Ciao Marci Bella Raga stiamo degenerando Masci screen? Sì No Di nuovo raga Raga sono ancora Marder Sono un botto kawaii raga Sono pangata mi sa Ma dov'è Renzi quando serve? No aspetta, wait un attimo Martina sei seriamente di nuovo Marder? No no Ok Raga non ho posto, sta morendo Cosa ha fatto Renzi in tutto ciò? Cosa voglio non ho posto? I have no post E Grillo, è Grillo, è Grillo E si, è Caterpie, Caterpie dove lo mettiamo eh? Mi sento, mi sento Starcast Ma voi lo sapete che cos'è il Caterpie? Sto facendo del Starcast Ma voi sapete cos'è? Mi chiamo Starcast Raga ma perché? Raga, ma For Honor Cosa? E di coso? Di Madman, è bellissimo Ah ok Facce tantissimo Va bene Va bene, è Occidentali Scarma Occidentali Scarma Ma Uè Occidentali Scarma che non ho ancora Occidentalmente Scarma Io ragazzi vi dico una cosa L'hanno fatto lo scalpo? Eh si Ah raga Occidentali Scarma C'è uno che ha scritto Peso un foto tra i morti Grande, questa è mia raga però Peso un foto Ah se tu? Forse sei tu che sei morto Uccideranno Karma Poverino Uccideranno Karma con una La scimmia nuda muore Raga, I have a gun Un privilegio raga Pezzo Attenzione, c'è qualcuno che dice che Fireball Jack o Bail Murder Che simpatico No, non mi hai lasciato Secondo me è Butter for Men Esatto Cos'è? Eh? È lui? Abbiamo capito Butter for Men L'hai detto Tina Culo per uomo L'hai detto che è lui No, è Royals 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 Lo dico Lo dico Lo dico Lo dico Prova a ucciderlo Prova a ucciderlo Aspetta Royals La Royals Rumble Raga vi devo fare una domanda importantissima Ahah C'è lo cimitero nel Nello shop La compro Sì per forza Secondo me Ma al cimitero va che ci sta un foto Sei tu al cimitero No raga ci sta un foto Raga Raga al cimitero C'è un foto Perché È duvissima Ha risposto di no Perché uno dice Oh my Oh my My baby Raga È Butter for Men Lo so che è lui Vivo la fig pot Chi lo dice Lo sa Ma è il uomo burro Ha avuto un dubbio Se preferisce la fi O il pot E ha detto Preferisco il pot Vabbè È giusto Tu sei un pot Sessuale Starcastic sono io Un po' pot Sessuale Ciao Marci Lo so che senti la starcastic No c'è Butter Men Torni indietro C'è Butter Men C'è Butter Men Io me ne sto andando brutalmente No no Merda vini qua È l'uomo burro Dai minchia Marci Sei una merda Ma siamo rimasti davvero io Io eren e Il murder È il murder Io eren e il murder Wow Può essere Il titolo di un film Di merda Attenti Mi chiamo Attenti Che mire di merda Che hai Attenti Non so dove è raga State attenti Sarà camperato Oh mi ha tirato Attenti Ed è dietro lì Sì 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 È cosa È Tom Alla mezzo Tutto Che cazzo Alla mezzo A casa A casa A casa Peso un foto Ciao 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 Allora Allora 60 minuti Mamma mia Ragazzi Medi E così Maria Buongiorno Sì Ma Io adesso Lo dico Tearless Perché Tearless C'è Maria Che mi sta roddando Perché Maria C'è Maria Non lo so C'è la canna Da pesca Mi sta roddando Non so cosa vuole Ma come la canna Mi sta roddando Io sono una Maldi molto cattiva Poi c'è uno Che non è un Buon spammer Poi c'è Skymoon Pro Skymoon In realtà Ma perché devi morire Cavolo Ma mori tu Perché devi morire Io me ne vado Nel passaggio segreto Ciao Merde No Mi ha ucciso Mentre andavo Nel passaggio segreto No raga Raga Sono il murder Ma sono Buggato nel passaggio segreto Adesso Ti sta bene Siete vivi entrambi No sono morto No raga Guardate come sono Non ci credo Che pirla che sei Come faccio Non ti impari a rompere il capo Devi aspettare che ti aprano Tu li perdi Esatto Non ci credo Quanto siamo in partita Non lo so Ma poi non lo sa Quasi nessuno Secondo il passaggio È bello che c'è C'è un cadavere steso Con i piedi fuori dal passaggio Raga Come faccio a uscire No raga Come faccio Marci Non sto scherzando Resti lì Eh raga Va bene Tanto non ci sono i cazzi nostri Vabbè Tanto vabbè Andiamo su whatsapp Andiamo su whatsapp Cerchiala su google Ok google Come esco dai pistoni Allora aspetta Va bene Allora Un pistone Di me google Ok google Come esco Da murder Mi ha cacciato Oh Eh beh Grande google Ce l'hai fatto Vai a fare incubo Medda Medda Ciao a tutti Raga Io sono Cioè io faccio Una serie pokemon Però Arrivato a una certa stagione Diciamo che Ok Diciamo che Pikachu È morto Pikachu è morto Mi è venuto un tracollo Emotivo E siccome sono Un tipo molto Emozionale Sono diventato Emo Ash Quindi Raga Ash Emo È devastante Raga Sono Ash Emo Sei Ash Emo Ash Emo Ash Emo Oddio Questo Mi uccide veramente Appunto Siete morti Entrambi Ciao Ciao Belli Vi uccido Tutti Oh Sei tu il murder Oh Yeah Sono No Non sei tu il murder Sono king miner 1 2 3 4 8 9 Ok Lui il murder Ah bella regà Ne ho appena ucciso un altro Ah bella regà Sono stronzetto però Sono proprio uno stronzet Ma ho proprio tanto Questa clip la tengo io Ciao È quello dove ti costruiscono uno stronzetto Sì Va bene Guarda lo accetto Eri che sei il tuo E ti voglio bene Ma se da Martina Non gli volevo bene Perché sei Scemo Ma non so No sono stronzetto Non sono scemo Ma sei scemo O sei nato Ronco Ah ma quindi sono Eh non sono più quello di una volta Adesso mi sono schierato con altri mob Sono un senpai Ma che bella è sta Sta pappa Che senpai Tico che sei Quando fessi i battuti Senpai Tico Senpai Raga quanto è rosso il murder Quanto è Ipse Ipse Sei sicuro che sia lui Si dimenticava di nascondere la spada Ma sei sicuro sia lui Ma ha tirato la spada Ah Crettino Dove sei Dove Se siete a marci Se è proprio Dove è solo la weapon Io Voglio ucciderlo È rosso Si chiama Ipse E sta nella zona della lava Provo a ucciderlo dai Il murder nudo spara Arriva raga Arriva raga Sto a sognare Occidentali spara Non c'è nella lava raga Il murder nudo parla Ho vinto Ho vinto Ho vinto Io ho vinto Ho vinto Sono il migliore Sono uno dei migliori Non ci posso fare niente Oh raga Sono un cazzo felice In che senso? È un gatto felice Pirla Lo so Volevi fare il titolo Invece sono un gatto Ma basta raga Non si fanno i titoli Prima del video Alla fine del video Dopo aver renderizzato Diceo Ma che titolo ho messo? Sì sì Certo Non fate le merde Siete tutti delle merde Che diceva? Era Giuseppe Simole Che diceva Siete tutti delle merde No no Chi lo diceva? Non mi ricordo Diceva Martino Joseph De Simon Raga Raga comunque Il mio nome è il più bello Come ti chiami? Ronate Zepizza No The Penguin No It's Sub No Alibaba Le Artist Proprio lui Cioè Ho fatto indovinarlo così velocemente Porco due Tutte le ha dette Ce n'è uno che ha provato a killarmi credo Ho appena Mi domanda chi? Mi ha rubato una zappa Sotto al nado La stavo per prendere Oh C'ho il titolo Ho rubato la zappa Era in place Su Marder Kiki XD No non ci credo Sei nella merde Ma che è successo? Ma non ci credo Hai rubato la zappa E ora me la ripiglio Uccidendoti Ok? Ma mi ha uccisata davvero? Sì Volevo la mia zappa indietro Ma perché? Così ho ripreso la mia zappa Vabbè la clip la tengo lo stesso Oh 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 Sono di nuovo lo stesso di prima Che bella che sono Raga Sono un biscottino Raga io purtroppo Ho il monitor Che non vedo niente Ok adesso vedo No io sono totalmente al buio Sei poison banana? Ah ero in una stanza buia effettivamente Sono Arugian scrive Sono Arugian Che top Volei dire che è il Marder? Secondo me sì Io ne ho già trovato uno morto Io ho già trovato uno che salta Io ho già trovato uno che non è nessuno E ha un orsacchiotto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Mannaggia ti amarti Che cazzo state dicendo? Mi chiamarti se ti odio Eh ero dietro di te Pensavo fossi te Ti volevo lasciar vivere Ma che cazzo state dicendo? Devi salvar che noia Tutto si sta facendo Ma che cazzo state dicendo? Io sono il biscottino Non uccidermi Ma sei Sei il Marder? Ma No Ha cambiato identità Ne ho ucciso uno a caso Ha cambiato identità Io lo stimavo Però adesso Mi ha rubato la zappa Ah no C'è la zappa E non so Ma lui No Ma perché mi apre la e ogni volta che clicco? Quanti identità ha cambiato? Ma cosa è successo? Ma non eri tu ormai? Ma andate a cagare Ma che cazzo mi stai dicendo? Ma porco Ma sei tu che hai ucciso me? Non puoi entrare in partita Vabbè dai Dopo Raga Sono kids Kids igirl E il primo che vedo stavolta lo provo a killare E ho la perché la weapon No Sero ci voglio provare Però non ci darei il white reaper Che poi Sì Sì Ti sta bene Fai schifo Fai Fai schifo Ma l'ha scritto da solo che era il murder Ma è scemo Veramente? Ragazzi per questo video è tutto Spero che il video vi sia piaciuto Ti lascio un like Un commento Passare a canna di cannaia Di Aaron Blaze E noi ci vediamo in un prossimo video Cliccate sulle scaricate finale Per un nuovo video Bella Di bellezza neutro Ciao 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 Ciao